Da qui, alla fine del campionato, la Lucchese dovrà dare l'anima e in particolare mettere più cattiveria, ovviamente in senso sportivo, tutte le volte che scenderà in campo. Lo dice il tecnico rosso-nero Giuseppe Galderisi, dopo il pareggio a Reti Bianchi ad Arezzo e in vista della trasferta di Savona sabato 2 aprile. Le chiacchiere stanno a zero, abbiamo zerato tutto, abbiamo cercato di cancellare un po' di confusione, cerchiamo di trovare l'allegria nel modo di fare le cose, ma l'allegria deve portare concretezza e la concretezza si vede attraverso l'anima, la cattiveria e la determinazione che ci devono mettere individualmente e soprattutto di squadra. Tutti sanno e chi mi conosce lo sa che la critica, prima critica fondamentale che faccio, la faccio sempre a me, perché io sono il responsabile di chi metto in campo e di quello che faccio. Sono contento di come è andata oggi sotto certi aspetti, ma sono molto, molto proiettato sul futuro per quello che dobbiamo fare per raccogliere e per portare a casa il nostro obiettivo. Tanto buona pass. Altrettanto a te e a tutti i tifosi. Maggiore convinzione nei propri mezzi e più determinazione nel portare a casa il risultato, quindi sono le sorprese che la lucchese dovrà trovare nell'uovo di Pasqua prima della ripresa del campionato. L'obiettivo è realizzare quei 6-7 punti che dovranno servire ad evitare la lotteria dei play-out.